Allora regà, io stavo per iniziare a filmare un vlog, ma ho rotto una lampada Sì, che cazzo ho mirato Così sembro che hai iniziato una house ride Ma hai fatto vedere, cioè ti sei pure fatto male a parte gli scherzi Ma greve, oddio Ragazzi, dopo quel piccolo problemino, benvenuti al vlog Inizierà con un allenamento Io e Sammy ci stiamo allenando insieme Non ci alleniamo sempre insieme, regà, però Magari un due volte a settimana ci alleniamo insieme Se no preferiamo entrambi allenarci da solo Così abbiamo un'ora di tempo e possiamo usare i pesi, tra virgolette, che abbiamo trovato In alcuni di voi, nei video passati, mi avete chiesto come abbiamo fatto a costruire questi set di pesi Praticamente vi faccio vedere Abbiamo trovato dei dischi al parco sotto casa Solo questi dischi E allora ce li siamo presi Questi sono di 5 kg Questi 2.5 e 2.5 E praticamente stiamo usando un manico di scopa Che abbiamo rotto L'abbiamo costruito praticamente due manubri E li sto mantenendo insieme Usando una di queste bande A8 Che potete trovare su internet Amazon E' un accessorio che praticamente se tu lo infili dentro Dovrebbe essere in realtà una presa Ma se tu lo infili dentro puoi praticamente creare un po' di tensione E puoi creare i manubri Quindi questo è quello che abbiamo creato noi In modo da poterci allenare sia un pochino a corpo libero Che un pochino sfruttare appunto proprio i pesi free weights Io oggi inizio facendo praticamente quattro serie di una panca inclinata tra virgolette Useremo una sorta di maio reps perché le ripetizioni sono molto alte Quindi faccio un set Poi pauso 5 secondi e faccio un altro mini set Pauso 5 secondi e un altro mini set Il set si chiama maio reps E faccio così quattro serie per il vetto E c'è anche il buon Sammy che lo sta facendo in questo momento Andai bro Abbiamo creato una pseudo panca con due sedie E ci abbiamo messo un cuscino Così che non ne sono troppo dure Quasi quasi illegitto Eccola uno E praticamente lo facciamo Ed è così che riusciamo a stimolarci bene Anche con carichi più bassi Fate lavorare qualsiasi carico avete Se è troppo leggero L'alentate leccentrica Connessione mente muscolo Fate questi tipo di maio reps Super set E se cosa è qua Definizione sta andando bene Dopo di questo penso che faremo schiena E faremo tricipite Per oggi abbiamo dato Ieri abbiamo fatto spalle Bicipite e gambe E diciamo che alterno queste due sedute Devo dire Oppure faccio parte superiore E parte inferiore Non sto seguendo un programma fissio Perché alcuni giorni magari sono più o meno carico Più o meno motivato E quindi se mi voglio allenare Farlo più breve faccio di meno Se lo voglio fare più lungo faccio di più L'importante è che quando vi allenate Vi spingete al cedimento E poi faccio un piccolo fisico update Tenete conto che c'ho il pump adesso E che la luce non è nemmeno granché Ma almeno il petto bello Pompato, bello squadrato Il petto che è sempre stato un punto debole Finalmente, finalmente Dopo anni di lavoro E comunque ve lo Veramente raga Ringraziarvi di cuore Per il feedback che mi avete dato Negli ultimi due video Perché veramente Non è che non me l'aspettavo Ma A volte Secondo me su YouTube Soprattutto gli altri YouTuber Danno un'idea Si mettono magari su un gradino Volontariamente o involontariamente Però sembra che uno YouTuber Era una cosa così Oh YouTuber Giulio di Musco e Vida In realtà Quello che voglio riuscire a fare Con la mia di comunità Con questa comunità di Musco e Vida Kaizen E farvi capire Che io sono esattamente uguale a voi Perché se mi Beccate per strada E mi fermate Siamo amici Ci parliamo normalmente Non me la tiro Non ci c'è Io sto qua grazie a voi E quindi si Con gli ultimi due video Quello della trasformazione Che è andata una bomba E sono felice perché Sono video molto semplici Che però possono aiutare Un sacco di gente Che sta ancora all'inizio E magari viene fregata Da altri personal training Invece Un video così semplice Che dice Vuoi dimagrire? Defici calorico Anche solo con un video Così semplice Che va così bene A me fa super super piacere E poi Il video Tra virgolette Del mio sfogo In cui Vi ho detto semplicemente Se avete un sogno Nel cassetto di seguirlo Quello Quello sono i video Che a me vengono più naturali Perché mi piace un sacco La motivazione Però a volte non parlo Perché ancora non ho fatto abbastanza E a me non piace Parlare prima di fare le cose E dato che mi sento Che comunque Rispetto ad altre persone Non ho fatto niente Non ne faccio così tanti Perché non voglio passare Come una persona Che pensa di aver fatto tutto E di essere riuscito Non è quello il messaggio Il messaggio era Se tu hai un obiettivo E quello che stai facendo adesso Ogni giorno Non va verso il tuo obiettivo Devi ripensare Un attimino A come fare le cose Comunque Questo è il fisico Attuale Regà Stamattina mi sono svegliato Low in di sempre 72.6 E la cosa divertente È che Sembra sano Ma in telecamera Dal vivo Mi sento piccolo Senza quando mi sento piccolo Ma in telecamera Sembro Oddio sei più grosso Ho cresciuto i muscoli Il petto pieno Qua in realtà È solo perché si vede di più La definizione Ma in realtà Io sto diventando più piccolo Ogni giorno Comunque torniamo a vedere Sammy E vediamo di Finire sto allenamento Ragazzi abbiamo appena finito L'allenamento E Mi sono fatto la doccia È andato abbastanza bene Però ho preferito fare tricipiti Vi ho praticamente spostati a domani Magari succede anche a voi Non è assolutamente un problema Se voi iniziate ad allenarvi E poi vi sentire particolarmente Stanchi O comunque Non lo so L'allenamento in casa Per me non è lo stesso Che con la palestra E quindi Dovevo fare tricipiti Non mi andava Non succede niente Lo sposto domani Intanto se colpisco le cose essenziali Volume, frequenza, intensità Nell'arco della settimana Stiamo a posto Quindi faccio tricipiti domani Con tricipiti Spalle E gambe Detto questo Non lo so Negli ultimi giorni Mi sono sentito Boh Così così Perché chiaramente Vorrei fare dei vlog E vorrei portarvi più contenuto Però dovete anche Pensare Magari se vi riuscite a mettere Nella mia Nel Non lo so Nelle mie scarpe Non so se si dice in italiano Letteralmente Io rega sto in casa tutto il giorno E quando mi sveglio Verso le 8 e mezza Alle 9 Sto letteralmente Dalle 9 Alle direi 17 Lavorando al computer qua Letteralmente Sto in questa postazione Non mi sposto Non mi muovo E sto almeno in piedi Perché preferisco Almeno per comprare Un pochino più di calorie Invece di stare seduto Mi metto in piedi E lavoro in piedi Praticamente Però appunto Mi sento Non so Fatemi sapere Volete che vi mostro Che vi parlo Quello che faccio Il mio lavoro Se faccio Se faccio le chiamate Che ne so Con i clienti Ditemi voi Cosa volete Ma sono io Non si sta focalizzando Sta roba Ecco Quindi non lo so Veramente Fatemi sapere voi Perché io mi sento Un pochino senza ispirazione Quindi preferisco Non vloggare Se non sono sicuro Di programmare Un bel vlog Per voi Ma se volete Possiamo farlo Volevo parlare Di una domanda Che mi ha fatto Un ragazzo Che era Marco Mi ha chiesto Ma tu Con l'alimentazione Ci puoi parlare Come stai facendo Ti stai continuando Con le calorie uguali Ogni singolo giorno E potrei fare Un video approfondimento Se lo volete sapere Praticamente dall'inizio Della definizione A questo punto Ho perso 5 kg E i primi 4 kg Erano facili da perdere Ho semplicemente Messo un deficit calorico Ridotto le calorie Ogni giorno Le stesse calorie Non ho fatto giorni on Giorni off Non ho fatto nessun tipo Di cheat Programmato Niente Praticamente ho ridotto Le mie calorie Deficit calorico Prolungato fino Al più possibile Se dopo Metti una settimana 10 giorni Mi sentivo Una giornata particolarmente Che mi saliva la fame Il giorno dopo Facevo una ricarica Facendo così Comunque in un mese Ho perso 4 kg Con magari due giorni In cui ho mangiato Un pochino più in alto Del solito Però Dopo che sono sceso Sotto il mio set point L'avevo detto in due video fa Intorno ai 73 kg Che Mi è veramente tosto E avevo Mangiando le stesse calorie Ogni giorno Avevo veramente I livelli di fame Sballatissimi Nel senso che Avevo sempre fame Mi svegliavo con la fame Andavo a dormire con la fame Nonostante facessi Delle scelte magari Di cibi Comunque voluminosi Insalata Carne Queste cose qua Poca densità calorica Basta Comunque mi svegliavo con la fame Quindi nell'ultima settimana Ho provato Vi dico la verità Per 7 giorni O 10 giorni Il mio peso Non è sceso sotto i 73 Quindi ogni giorno Era 73,5 73,4 73,9 73,2 Restava Per 7-10 giorni Mi stava un attimino Veramente facendo un attimo Cervellare Diciamo psicologicamente Magari quindi Voi hanno lo stesso problema È normale Cosa ho fatto? Ci sta una strategia Che si chiama Protein sparing diet E io sto facendo Una sorta di protein sparing diet Cosa vuol dire? Praticamente Mi permetto 2-3 giorni di fila Di mangiare Molte basse calorie Ad esempio 1.4 1.5 Per poi Nel terza Quarta giornata Fare una ricarica Di praticamente 3.000 calorie Alcuni di voi potrebbero dire No assolutamente No non si può fare E effettivamente Se magari Avete in passato Dei problemi O dei disturbi alimentari Non ve lo consiglio Ma se lo fate Perché C'è un motivo Come per me Io dopo aver fatto Questa protein sparing diet Per 4-5-6 giorni È lì che il mio peso è sceso Ho fatto 72.6 kg stamattina Quindi dopo 10 giorni Che non scendeva Ho cambiato un attimino approccio Proprio per non avere fame E adesso riesco a stare Due giorni Tre giorni Con calorie veramente basse Ok Dove sono abbastanza low energy Però il terzo giorno Dato che ho questa ricarica Psicologicamente Riesco a sopravvivere I due giorni di prima E Con la ricarica Non ho praticamente fame Adesso sono il secondo giorno basso E comunque non ho fame Non mi sento di mangiare Quindi per me funziona Almeno per il momento Potrebbe non essere La scelta adatta a tutti Ma la cosa importante È comunque sperimentare E imparare a capire Il vostro corpo A cosa reagisce E io vi voglio Semplicemente dire questo Non sto dicendo che dovete farlo Sto dicendo Se stavate avendo un problema Tipo il mio Perché no Regà Provateci Io vi do dei consigli A me per ora sta funzionando E penso che continuerò E che mi permetterà Di scendere sempre di più Ultima domanda Che questa clip È lunghissima È Ma Giulio Non stai perdendo troppo? Cioè Perché vuoi perdere così tanto? E Assolutamente Però io mi sono posto Un obiettivo In questa definizione Che era Arrivare nella mia condizione Migliore di sempre E voglio provare Ad arrivare A un livello Di definizione Che non ho mai 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 Preso prima Ok? Se riesco 10% 10% di body fat E sotto Quindi sì Sto perdendo abbastanza Ma perché me lo sono imposto Come obiettivo E io non voglio che nessuna Non voglio che questa situazione Coronavirus O altro Non voglio che Mi faccia tornare indietro Sul mio obiettivo Io ho detto che lo faccio Lo faccio A tutti i costi Anche se magari devo appunto fare Avrò fame Low energy Se devo sfruttare Appunto Se devo avere delle strategie particolari Lo faccio comunque Perché è un mio obiettivo Se perdo un po' di massa Pace È un mio obiettivo È diventare definiti Io spero che riusciate a capire Non è per tutti Se volete stare bene in spiaggia Io già adesso Il mio fisico sta bene in spiaggia Ma io voglio arrivare Al prossimo livello Che per gli ultimi 2-3 anni Non l'ho affatto Non ci sono riuscito Quindi quest'anno Me lo sono imposto Questa era la clip Super super lunga Scusate Ragazzi La mia cena Slash post workout Consiste in Riso bianco Basmati Qua c'è un pochino Di orange chicken E qua invece C'è beef Con qualche Broccoletto E altre cose qua Una porzione non è enorme Guardate le mie mano E praticamente qua Sto facendo sempre queste Queste porzioni Di riso Verdure E diciamo carne Che magari è un pochino più grassa Però mi lascia abbastanza calorie Da farmi una mega cena Soddisfacente Così che non ho fame E così che Diciamo Colpisco tutti i macro Colpisco le mie calorie E sono soddisfatto Di ciò che mangio Non vedo l'ora Raga Scusate la faccia But I'm so Excited Sono così eccitato Non avete idea Sono Le 8.40 E solitamente io Dormirei ancora Un retronetto e mezzo Però mi è arrivato un messaggio E sono troppo eccitato E non riesco a ritornire Praticamente Se noi andiamo a vedere Il track and code Mi è arrivato un messaggio Aspetta che vi abbraccio meglio Eccoci qua Mi è arrivato un messaggio Che dice Il pacco Dovrebbe essere Arrivato a Dubai E dovrebbe essere Col delivery courier E dovrebbe essere Consegnato Oggi Entro la fine del giorno Quindi oggi Entro la fine del giorno Avremo il primo sample Di casi un'atletica Io non vedo l'ora Di provarlo Di metterci le mani sopra Di vedere com'è E di farvelo vedere E quindi Sono eccitato Non riesco A dormire Figo Sono tipo un bambino Ci sta Non si vediamo bene Non provo E' un'acqua E' un'acqua Sì Grazie Sono così eccitato Grazie veramente Madonna che è arrivato Non avete idea Da quanto cazzo Cioè vabbè Non fate Vediamo qua Quanto è che lo stiamo aspettando Ci stiamo lavorando Vabbè E' una cosa da Un progetto che mi è venuto in mente Anni fa E che è da mesi Che ci stiamo lavorando E il campione Lo aspetto Da due o tre settimane Che hanno fatto tutto Come voglio io E' un campione Ed è il primo campione Quindi Vediamo com'è That I am Allora Cazzo si Sono tipo troppo eccitato Anch'io cavolo Oh yeah Vedo il Kaizen Oh wow Ci hanno Ah ok Ci hanno pure Inserito Guarda tutte le colorbricks Guarda ovviamente Questo è tutto il color palette Per il tessuto Che ho chiesto io Che spettacolo Che è un blend Di cotone e elastene Per renderlo molto più sportivo Molto più elastico Ci hanno mandato tutti questi Quindi Guarda che figo Come facciamo Oh zio Sto tipo Faccio vedere un po' Oh magari Vattelo a provare Non lo so Come è No è zio Soltacolare Vai me la vado a provare Vai 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 Io sto qua Aspetta Speriamo bene Vai Ricordiamo che taglia M Quindi Più per me che per te Però tu stai in definizione Sì eh Faccio vedere Sì Wow Holy shit Taglia M Cazzo Questa ti sta bene Perché la volevo come maglia Sì 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 Quindi Queste un po' ribassate Le maniche Certo Non sono maniche normali Che partono da qua O qua Sono maniche ribassate Che spettacolo Potrei Potrei allungare un po' Un pochino sì Forse sì Però ricorda che tu sei più large Che M Sì Di due centimetri Però in termini fit Sta molto bene Devo dire È bella figa C'è il logo Kaiser Così block C'è qua un dettaglino Un altro logo Che però pensavo di cambiare E metterci il marchio Poi abbiamo designato tutto Quindi c'è tipo uno scoop Vedi che non è dritto il taglio Si vede Sì sì così Lo scoop Sì 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 Si vede E questo è M Che secondo me È ottimo Ma io andrei large Guardate Mi aspettavo che sarebbe stato Molto più piccolo Cioè mi piace il fit così Io volevo il fit un po' più largo Sì ancora più largo Perché secondo me Con il primo prodotto Non volevo fare performance Perché la performance Quindi quella più aderente Certo Devi fare un sacco Un sacco di campioni Per farla veramente bene Io sono sicuro La faremo bene La stiamo già sviluppando Però Come primo ordine Voglio fare una drop shoulder Perché mi piace l'idea Sì 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 E abbinarci una canotta Che così magari Ti metti la canotta sotto Eh sì Comunque è sì questa Facce lei dietro Che figo eh Non so se si vede ragazzi Però guardate pure Ah se ho messo il bass piano Eh sì Ti fa sembrare più grosso Ti fa sembrare più grosso Ma dà pure quell'impressione Di proprio legittimità Cioè proprio figo Mi piace molto zio Sì It's fucking sick Questa vai è tua La devi provare bene Eh sì sì Kaizen Wow zì Non è chiaro Non mi sono visto Però Sei storto te O hai storto la maglia Magari Ti sta quasi larga zio Larga? Eh Vabbè Orso è in definizione Sei piccolo sei Sono piccolo Però figa Mi piace Wow dietro ok Dietro è fighissima Dietro è quello che volevo proprio Dai Siamo in focus Ragazzi Kaizen chat Benvenuti all'ultima clip Magari alcuni di voi hanno visto In questo video prima La maglietta che sto Indossando Vediamo se si può Toccare La fa vedere No? Riesce a caricare? Questo è il block logo Regà Sì Praticamente è arrivato Aspetta che ma però non ci trova più Sai Devi venire qua Praticamente è arrivata Il campione stamattina E ha la prima maglietta Che in realtà Praticamente come vi avevo spiegato In due video scorsi Sono andato a trovare Due o tre diverse Produzioni Di produzione testile E quindi ho chiesto Un campione di tutti loro Mi ha dato tutto il design Mi è arrivato più un campione Diciamo che Abbiamo detto La qualità è pazzesca Oggi siamo andati a testare Abbiamo fatto qualche foto Anche per Kaizen Athletica Se non l'avete visto Vi consiglio di andare a vedere E di seguire la pagina E la qualità è pazzesca È tipo questo blend E la stena e il cotone Quindi è veramente un sacco Un sacco Non si vede Però è un sacco elastica Guardate Attillato Beh non è attillato No dico può essere attillato Magari se studi o qualcosa Ah Sì Però non direi che attillato No Assolutamente no Anzi è abbastanza larga E infatti probabilmente La cosa buona di fare i campioni Che Non Cioè almeno Lo vedi in persona Puoi vedere che la qualità è buona E per la qualità mi piace un sacco Però ci stanno piccole modifiche Ad esempio Per la drop shoulder tee Io avevo più L'idea di farla Ancora più Larga Più Di conseguenza la manica Non è una manica raglan qua Ma è più sotto Come vedete E io vorrei spingere ancora più sotto Quello che fa Praticamente crea Un aspetto sopra Tipo con la schiena Molto più grossa Il trapezio eccetera Il battano Non so se riuscite a vedere È fighissimo Sì 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 Secondo me appunto Facciamo questi ultimi ritocchini Poi ci sta anche il logo Qua di lato Da cambiare Ovviamente qua sotto Oltre il logo scritta Block logo Qua ci sta Non lo vedete Perché c'è Sammy Che invece di focalizzare su di me Ecco Focalizza qua Ecco vedete Oh dai È morta Vabbè raga Dovremmo farne Puoi tornare È morta È morta Ovviamente Block logo Qua ci stava anche La logo scritta Ovviamente l'hanno L'hanno messo dentro Con l'ago L'hanno cuscito Però qua invece Pensavo di cambiare E mettere il logo Kaizen E poi Abbiamo pensato Il dietro È un pochino lungo Ti copre il sedere Che è molto stile americano Ma noi siamo italiani Quindi preferiamo Magari avercela A metà sederino A metà sederino Che anche alle donne Mi piace un po' Il sederino Certo Quindi ci sono ancora Piccole modifiche da fare Non siamo soddisfattissimi Però siamo super soddisfatti Della qualità Eri primo Quindi oggi ho letteralmente Misurato tutto Con il metro Deciso di fare le sostituzioni Glielo farò sapere indietro Ma la cosa fondamentale Era capire la qualità Della maglietta Ed è stupenda Il tessuto 100% Cioè è tipo È super comfort Ce l'ho avuto oggi Tutto il giorno È tipo È Perché non è solo cotone È un blend Di conseguenza È un sacco confortevole E soprattutto la qualità Cioè questo Potete fare Non lo so quanto vi dura Due o tre anni Non è una di quelle magliette Che magari compri da Zara Le metti Nella lavatrice E si spacca in due giorni Lo stile della maglietta Secondo me L'end product Sarà veramente Così bella Così stilosa No veramente Che a prescindere Te la metti in palestra Ma veramente Te la puoi mettere Per uscire Quello era tipo Con la drop shoulder E questa qua Magari quelli di voi Dicono Eh ma la volevo Più cattiva sulle braccia E quella arriverà Però quella è la performance Questa invece Vogliamo fare una cosa minimalista Che ti fa stand out Sì Che sembra che tipo Non te la tiri Perché non è Non fai vedere niente Però è così figa Che Te la tiri Ma non te la tiri È la performance Magari più per la palestra Questa è tutto Per tutto Se in palestra Apri palestra Se vuoi uscire An aperitivo Quello è l'aggiornamento Siamo stra felici Aspettiamo gli altri campioni E aspettiamo anche I campioni Dell'altra cosa Che è la canotta E speriamo di riuscire A fare esattamente Quello che vogliamo La qualità è ottima Quindi direi Siamo un buon 50% 50% Potrebbe andare molto peggio Potrebbe andare molto peggio Però Ci sta Felicissimo Volevo solamente aggiornarvi So che l'avete richiesto Negli ultimi due video Non l'ho ammesso Però siamo giornati E niente State qua ancora guardando Ero interprezzo tantissimo Perché questo video Era un bel po' lungo Ho fatto tipo Un sacco di clip Sì Non ancora lo so Che per editare Che per editare Non so niente Ma infatti voi dite Semi Semi fa il video Che cos'è Io faccio un kiss Almeno edita E niente ragazzi Spero veramente Nel vostro supporto Arriveranno E saranno veramente Una fichiata Ve lo prometto E noi Io vi ringrazio Lasciateci un like Se potete E noi ci vediamo Nel prossimo video No No Te non dici niente Sorriso Hai sorriso Allora No 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 No